Word, mi tieni questa per favore? Allora. Nome? Il tuo nome. Il tuo nome. A che cavo? Metto il nome nel cervello elettronico. Comincia a starmi antipatico. Hai tre secondi di tempo, poi ti spacco la faccina. Cidente! Qua cosa... Cuncli... Il tuo nome che aveva il nostro organismo. L'unico il nostro organismo è molto importante. Cosa è a questo? Il miav�a lecce? Cosa?